Ed ecco a voi il lago Fetel, Fetel, Fetono, non mi ricordo come siamo, insomma lì un buro per ora è dove Paolo, il mio amico finanziere, ha fatto la sua camminata quest'estate, e questa è la seconda volta in quest'anno che capita qua sopra, perché io a febbraio già sono stato qua, di quest'anno, questa è la discesa. Eh, fino a qui abbiamo fatto 4 km, ora continuiamo, siamo molto tardi. Ciao ciao!